In un mondo composito e bariegato come quello editoriale, come fa una casa editrice a mantenere una propria identità attraverso le collane, le varie mode che vengono, passano? Tanto ignorando le mode, aspettando che passino, è una cosa difficile, ma non tanto, è difficile per le questioni materiali soprattutto. Quando Adelfi è nata nel 1963, ormai molti anni fa, era nata la versione ufficiale, che però non era solo così ufficiale, non vi faccio l'intera storia perché è molto lunga, ma insomma con un'idea di fondo, con alcune, ma da un punto di vista strettamente editoriale con un'idea di fondo pubblicale, quelli che allora si chiamavano, loro chiamavano, gruppo che l'ha fondata, chiamavano libri unici, cioè libri che singolarità, come si direbbe oggi, se guardate le prime uscite dei primi anni hanno tutti quella caratteristica. I libri arrivati, specialmente allora, sembravano arrivati da altri sistemi solari, perché erano libri di cui nulla si sapeva e che certo non pagavano tributo ad alcun tipo di moda e che si imponevano per la loro interesse, per l'importanza, per la loro bellezza, per tutte queste cose insieme nel migliore dei casi. Era un gioco che poteva andare avanti un po', ma non tantissimo, perché libri con queste caratteristiche, magari anche libri di scrittori per caso, di scrittori che magari, guardate, nei primissimi numeri c'è un manuale di teatro giapponese di un autore giapponese di qualche secolo fa che aveva scritto naturalmente solo quello, quindi non si poteva proseguire. Oppure c'è un memoir di un naturalista, di un critico letterario inglese del primo novecento che era il figlio del più cerrimo nemico di Darwin, che è un libro fatto magnifico, come vi consiglio di legge, che era padre e figlio, e che però era l'unica opera estesa di questo signore che poi per il resto ha fatto solo delle piccole, delle critiche letterarie sofisticatissime, bellissime, ma non riproponibili, quindi era un libro letteralmente unico. C'era un romanzo di un fantastico, di un amico di Kafka, che si chiamava Alfred Kubin, che di significativo aveva scritto solo quello, non è che cercassero libri, gli unici libri che ho scritto, ma libri non avevano in testa di prendere le opere di Thomas Mann, ma di cercare qua e là delle cose, dei libri che in Italia non erano mai apparsi o che non erano stati notati, eccetera, eccetera, che fossero, avessero una serie di qualità che ne rendeva quasi indispensabile la pubblicazione e la conoscenza. È un gioco molto bello che si potrebbe ancora fare, anche se oggi il mercato è talmente cambiato che difficilmente si potrebbe fare, a meno di non pescare nel passato remoto, perché quasi tutti gli autori oggi sono rappresentati da un agente, o comunque da un estate, o comunque da qualcuno, è molto difficile che tu possa dire a un interlocutore prendo quel libro e nessun altro, mettiamo di quell'autore, perché spesso accade che un autore abbia scritto una cosa, che ha scritto magari 150 libri, uno vanga la pena e gli altri no, ecco, questo non puoi più farlo, ma il motivo per cui, poco a poco, diciamo, questa vocazione originaria si è un po' snaturata è che nel 1903 uscivano otto libri l'anno da noi, oggi ne escono quasi cento, che mi fa angoscia solo a dirlo, vuol dire che ogni settimana ci sono due libri sull'autoschimania che io a volte non so neanche più che cosa abbiamo pubblicato e cosa no, cioè non cosa hanno pubblicato gli altri, cosa pubblichiamo noi, quindi questo alla fine rende impossibile mantenere quel tipo di... però quello che si può mantenere è uno sguardo, ecco, anche su una scena molto cambiata e su un peso dell'editore molto cambiato, perché nel senso che Delfi era una piccolissima casa editrice, come oggi sarebbe, non lo so, forse iperbora proprio, perché fanno 12 libri l'anno, ecco, insomma, ma è più visibile, il Delfi è ancora meno visibile, forse, all'inizio, prima del boom, diciamo, prima del... e questo non si può replicare su un modello come quello, come l'attuale, però questo non impedisce lo sguardo di rimanere lo stesso, cioè di cercare, non sempre trovandola, perché poi, sai, la statistica un po' esiste, cioè se espandi così tanto, insomma, alla fine imbarchi qualcosa che forse era meglio che rimanesse a terra, ecco, nel nostro catalogo c'è, non te la indico perché non sono masochista, ma, insomma, non è proprio un giacimento di diamanti grezzi, ecco, c'è anche altra roba, in cui non farebbe volentieri meno, ma non... ma per tante ragioni succede, succede perché a un certo punto subentrano, cioè entrano in gioco delle cose come la politica degli autori, cioè il fatto di, ad esempio, prendere autori, per interno diventa più difficile, non è vivente, quindi, insomma, se decidi di pubblicare un autore, questo comporta fatalmente, entro a certi limiti, pubblica anche magari una cosa meno riuscita, magari una cosa meno... e non è più possibile fare quella cosa lì, però si può mantenere una... c'è una moda, per così dire, la cosa del noir svedese, non devi... lo scandi thriller, non è detto che tu debba affannarti a cercare a tua volta uno scandi thriller da mettere in catena, come gli editori purtroppo mainstream fanno, e questo è quello che rende l'editoria, devo dire, specialmente in Italia, l'Italia è un caso un po' particolare, anche per l'Italia si pubblica moltissimo, quasi più che nei paesi analoghi. La scena della Francia, ad esempio, se vengono all'ebrie francese buona, vengono una scena molto più variegata, insomma, da anche dal punto di vista fisico. Se la libreria italiana, la stagione dello scandito, vedi solo roba che succede in un fiordo, dove un signore alto e biondo ha ucciso due bambine, o duecento, e questo per otto mesi, sono tutti uguali risvolti, sono tutti uguali, le copertine sono solo ragazze fra le frasche, e non... la frasca, spero che poi passi, perché io non la posso vivere, cioè, non ho capito perché tutto deve essere ambientato in una verdura, non bisogna dirlo ai colleghi, non so, ecco, però, questo si può cercare di evitare, qualche volta, il mestiere è fatto come questo, è fatto di abbagli, di sbagli, di allucinazioni, i libri sono un po' come, spesso vengono anche comprati in una situazione psicologica, sono altre, ma insomma, singolare, perché tu, adesso un po' meno, adesso i tempi stiamo tornando a essere fisiologici, stiamo tornando a una situazione edenica, in cui si diceva, due editori si incontravano, parlavano di un libro, a Francoforte, la fiera più importante che c'è, l'editoria, che si svolge in ottobre, e si diceva, non l'ho visto un'altra volta su una lettera, bene, parliamo al prossimo Francoforte, cioè di questo singolo libro, l'anno dopo, diciamo, questo era l'Eden, quello in cui abbiamo vissuto, la realtà è che ti arriva un manoscritto il venerdì sera, e tu devi decidere di svolicare o no, entro l'unedì mattina alle nove, il che non sempre favorisce l'ucidità, non quasi mai favorisce la simpatia nei confronti del libro, perché dover legge per forza, dopo dieci minuti odi, chi l'ha scritto, sua madre, la sua generazione, la storia, e tutto poi interferisce con le partite, quindi queste cose del weekend, quindi sono andato a un fastidio spaventoso, insomma, questo meccanismo un po' frenetico, specie per le novità, a volte, succede un po' come quando vai ai festival di cinema, non so se avete mai frequentato, vedi 800 film in quattro giorni, ti sembrano del meraviglio, delle porcherie, poi quando li vedi in sala dopo tre mesi, dici, ma come ho fatto a trovare un capolavoro, questa porcheria, o viceversa, quindi un mestiere in cui bisogna un po' cercare di, spesso non hai il tempo, un libro deve, in un mondo ideale, deve decantare un po', devi capire se ti rimane qualche, se lascia qualche traccia, se lascia qualche, a volte, magari, letto di fila, e poi, tenendo conto che ormai, poi la, c'è un livello medio di produzione che è alto, cioè l'edificio è che tu legga, a un certo livello, delle porche, come succedeva, delle porcherie, c'è uno standard, quindi a volte, non è semplicissimo capire se una cosa, finisci per rifiutare delle cose buone, o per prendere dentro delle cose che non lo sono, però la barra puoi tentare tenerla, anche perché poi sai, questo l'ho fatto da persone, le persone se sono, quando si mettono insieme, quando il gruppo è fatto in un certo modo, quando i gusti sono quelli, e nel bene e nel male, quindi, insomma, si può mantenere, cercare di mantenere, infatti noi credo che, perlomeno l'intenzione sia stata riconosciuta nel tempo, di là dei risultati singoli, che possono essere variabili, ma insomma, e questo credo che i lettori ce lo riconoscano, ed è anche l'unico modo per farsi seguire, perché moltissime cose, questo è un altro ramo del discorso, ma moltissime cose che sono, succede continuamente, che magari sono invisibili da un altro editor, rimanono bene da noi, succede un po', perché nel tempo, chi ci segue, chi ci legge, così ha capito che si può fidare perlomeno l'intenzione, ecco, poi dopo sulla singola scelta, uno può dire, no, vabbè, stavamo qui, a me mi fa schifo, ma, però, non è fatto il cattino effetto.